Ciao, sono Filippo. E per me è una gioia poter essere qui con te e condividere la meravigliosa parola di Dio. Beh, intanto ti ringrazio per il tempo che mi stai dedicando e se hai la possibilità ti invito a prendere la tua Bibbia e andare nel Vangelo di Matteo, capitolo 14, versetto 29, che dice C'è una parola straordinaria che tocca particolarmente il mio cuore, che è la parola vieni. Quindi Pietro si è fidato di Gesù, ha camminato sulle acque e stava tenendo gli occhi fissi su di lui. Ma nel momento in cui Pietro ha distorto lo sguardo da Gesù, ha iniziato a vedere le onde del mare, queste grandi onde. E allora in quel momento è iniziato ad affondare. Beh, queste onde possono voler significare un pochino le situazioni enormi della vita che spesso ci troviamo davanti. Voglio farvi ragionare su una cosa. Quante volte siamo così motivati da raggiungere un sogno, un obiettivo, e teniamo i nostri occhi fissi su quell'obiettivo, su quel sogno. Però a volte ci sono poi le persone attorno a noi che tentano e cercano di scoraggiarci. E in quel momento cos'è che facciamo? Ci buttiamo giù, cadiamo a terra, ci lasciamo sopraffare dalle situazioni e dai pareri delle persone, non tenendo più gli occhi su qual è il nostro obiettivo. Beh, quello che voglio dirti oggi è, tieni i tuoi occhi fissi su Gesù. Se non l'hai ancora fatto, accetta oggi Gesù nel tuo cuore come Signore e Salvatore. Pietro è stato l'unico dei discepoli che è sceso da quella barca e stava andando dritto verso Gesù. Ma gli altri discepoli sono rimasti nella barca. Mi piace un po' definire questa barca come la barca delle paure, la barca delle preoccupazioni, la barca dei dubbi. E io voglio invitarti oggi ad accettare Gesù nel tuo cuore. Magari l'hai già fatto o magari lo devi fare, ma a dirgli padre io ti accetto nel mio cuore oggi come mio Signore, come mio Salvatore. Voglio camminare verso di te, voglio camminare con te e voglio scendere da questa barca di dubbi, di paure e di preoccupazioni. O magari sei già un credente e stai continuando a vivere in questa barca di dubbi e di preoccupazioni. Beh, oggi puoi dire, padre io voglio fidarmi di te, voglio scendere da questa barca e camminare non più nella preoccupazione, non più nel dubbio, non più nell'ansietà, ma camminare per fede. La preoccupazione guarda le circostanze, la fede guarda la parola. A cosa vogliamo credere oggi? Vogliamo rimanere in quella barca o vogliamo accettare Gesù nel nostro cuore, camminare con Lui, vivere per fede e andare avanti con Lui di valore in valore? La scelta è nostra. Sia la preoccupazione che la fede ricevono e credono in un qualcosa che realmente non si vede. La preoccupazione riceve al negativo, la fede riceve in accordo alla parola e al positivo. Ti do questo consiglio, caro amico, cara amica. Decidi di mettere Dio al primo posto e inizia oggi a camminare in accordo a quello che dice la sua parola, perché Gesù oggi ti sta dicendo, vieni, io aspetto proprio te e con te. Vuoi andare avanti perché per te ho pensieri di pace e voglio portarti in un cammino di pace, di abbondanza e di gioia. Dio ti benedica.